Potrebbe esserci un altro dossier che si aggiunge a quello depositato nei giorni scorsi alla Curia di Napoli. La nuova denuncia riguarda un altro prelato, un prete di Pozzuoli, che però potrebbe avere un collegamento con l'altro parroco di Pizzo Falcone, accusato dal giovane di Napoli di sesso a pagamento. Le due storie vengono fuori dalla chat segnalata dal giovane dove compaiono i due preti. Ed ecco che la vicenda si sposta da Monte di Dio a Benevento, dove c'è Don Fortunato di Noto, presidente dell'associazione Meter, che lotta contro la pedofilia. Il nuovo dossier è arrivato proprio a Don Fortunato, l'aspetto più inquietante della denuncia a differenza dell'altra e che nella vicenda sarebbero coinvolti anche minori. Nel nuovo dossier sono contenute una serie di nomi di autorevoli esponenti del mondo della Chiesa di Napoli, che sarebbero coinvolti a vario titolo in vicende e in gran parte a sfondo sessuale. Negli ultimi 12 mesi l'associazione Meter ha segnalato più di 150.000 siti pedopornografi contenenti centinaia di migliaia di foto e video, conversazione e torture sessuali da parte di uomini e donne su bambini di età compresa dai 0 ai 13 anni. Ora la denuncia raccolta da Don Fortunato dovrà essere esaminata, portata all'attenzione del vescovo di Pozzuoli e poi anche della magistratura.